Ma come si fa? Ma che partita è? Ma che partita è? 4 gol, 4 pere dal Milan e usciamo a testa bassissima dalla Coppa Italia Siamo al novantesimo, gli ultimi minuti, 4 pere dal Milan Ok, che è il Milan, fortissimo San Siro, però partita imbarazzante, veramente male 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 Dopo qualche partita che andavamo bene, questa veramente malissima, proprio male 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 Oggi veramente tutti da vergognarsi, partita imbarazzante Sarri, ma svegliati, svegliati Sarri All'andata in campionato che è finita 2-0 ma ci hanno dominato Stesso modo di giocare, marcatura uomo Noi che non ci riusciamo a girare, sbagliamo un sacco di passaggi Poi loro con i contropiedi sono molto bravi anche nello stretto Ombra in Diaz oggi ha giocato molto bene Ma sempre marcatura uomo quando ricevono Milinkovic, Cataldi Che sono la fonte di gioco diciamo Sempre marcatura uomo, non devono scaricare di prima Spesso sbagliano, all'andata è stata così Per il Milan è andata bene e Sarri non cambi niente, non ti inventi niente Ma all'andata ci hanno surclassato così Ritorno stessa cosa, tu non hai una mossa C'è un modo per cambiare le sorti Per dire, così non si riesce a giocare Ti devi inventare un modo per risolvere Già la partita del giro d'andata di Serie A Ci hanno messo in difficoltà con questa cosa Dai svegliati Poi non metti Cabral, non metti Cabral Metti Raul Moro Che oggi ha pure giocato bene, ci ha provato Ma cosa l'abbiamo acquistato a fare Cabral? Cosa l'abbiamo preso a fare Cabral? L'abbiamo venduto pure Murici Ma cosa l'abbiamo preso a fare se non lo metti? Cosa l'abbiamo preso a fare? Raul Moro Che poi stasera ha giocato bene Ci ha provato Però mettimi Cabral, dai Non Raul Moro Mettimi Cabral Nuovo acquisto poi Se no quando è che lo provi? Mamma mia In difesa Uno brobbio, uno scempio Imbarazzanti Luis Felipe e Patrick stasera Veramente indecorosi, vergognosi Proprio vergognosi stasera Mamma mia Reina Ormai è un pensionato Cioè Non dico che con Stracoscia Non l'avremmo perso Assolutamente Ci mancherebbe Però Sicuramente uno Il primo Forse anche un altro Di gol Con Stracoscia Secondo me Non l'avremmo preso L'avremmo evitato Però Nonostante questo Comunque Difese imbarazzate Nel terzo gol Marusic Che si perde Giroud Anche nel secondo gol Nel primo Poi Marusic nel terzo gol Ha Giroud dietro E proprio non lo vede Lui pensa solo alla palla davanti E non vede Giroud dietro Due metri dietro di lui Proprio bello tranquillo La palla arriva in mezzo E la butta dentro facilmente Ma ce l'hai dietro Ce l'hai dietro Veramente oggi I quattro in difesa Malissimi Tutti da Da quattro e mezzo Vabbè Anche Reina C'erano due gol Che poteva parare Però Non è che ha tutte Ste grandi colpe Centrocampo Annullato Completamente Dal Milan Perché Marcatura uomo Arriva la palla Deve scaricare Per forza di prima Pressato È difficile Ha comunque Giocato male Però era Veramente difficile Giocare bene Per i centrocampisti In sta partita Grande lavoro Con quel centrocampo Del Milan Soprattutto Brian Diaz Oggi è giocato molto bene Ma Pioli Con sta mossa Ci mette in difficoltà Sarri Inventati qualcosa Inventati qualcosa Non puoi far fare Tutti i 90 minuti Così in difficoltà Senza una via d'uscita Dai Come si fa Ma svegliati Sarri Svegliati Svegliati Che poi cambi Anche ci stanno Tranne Cabral Che non l'ha messo Veramente Scandaloso Secondo me Scandaloso Ma penso che La maggior parte Di voi Se non tutti Siate d'accordo Che doveva mettere Cabral Cosa abbiamo Acquistato a fare Cabral Cosa abbiamo Acquistato a fare Poi serata Veramente da schifo In più L'infortunio Di Immobile In più L'infortunio Di Immobile Che si fa male Speriamo che stia fuori Poco Perché In campionato Ci serve Assolutamente Tanto 95esima partita Praticamente Finita Speriamo Speriamo Immobile Non si sia fatto Niente Ha preso Un colpo Al piede Una botta Non si è capito Benissimo Cos'abbia Comunque Al piede Speriamo Stia fuori Poco Neanche una partita Perché Sennò Veramente Siamo messi Proprio Male Male Poi anche Tanti passaggi Sbagliati Ma anche In profondità Unica nota Positiva Forse Felipe Anderson Che rispetto Alle ultime partite Oggi ha giocato bene Però Veramente Nel complesso Tutti Imbarazzanti Stasera Indecorosi Ripeto Usciamo A testa Bassissima Proprio a testa Bassissima Dalla Coppa Italia Peccato Da una competizione Avrei voluto andare avanti Semifinale Avremmo trovato L'Inter Ancora più difficile Però comunque Sappiamo che La vittoria Dalla Coppa Italia Garantisce L'accesso In Europa Veramente Usciamo a testa Proprio bassa Poi Ripeto Complimenti Assolutamente Al Milan Hanno fatto Una grandissima partita Come l'andata In campionato Ci hanno proprio Surclassato A livello di occasioni Ma anche sul piano Del gioco Noi Un tiro in porta Con Pedro Nel secondo tempo Lento Proprio In fase offensiva Veramente Malissimo E Niente Speriamo bene La prossima partita In campionato Ormai ci dobbiamo Concentrare lì Anche sull'Europa League Però Niente Stasera Veramente Male Male Malissimo Fatemi sapere La vostra Qua sotto Con un commento Mi raccomando Se avete visto La partita Cosa ne pensate E niente Io Vi saluto Ci vediamo Ad un prossimo video Mi raccomando Un bel mi piace Iscrivetevi al canale Ti mando la campanellina Molto molto importante E niente Io vi auguro Una buona serata Buonanotte E noi ci vediamo In un prossimo video O domani Con un post partita E le altre partite Di Coppa Italia O direttamente Venerdì Con i pronostici Voilà